Sergente, gli alieni stavano cercando questo? Così sembra, signora. Difenderla gli ha costato caro. Ora è tutto tranquillo. Ehi, che sta facendo? Nessun rischio, nessun risultato. Ma questo non è quello che mi aspettavo. Eresia! Via questa immondizia! Questi ragazzi non sanno proprio fermarsi. Spirit, qui è Forge. Ci servirà un po' d'aiuto. Qui, Forge. Erano in acquato a sito della reliquia. Sono bloccato qua con Enders. Abbiamo subito gravi perdite. Ci servono subito rinforzi! Sergente, la base Alpha non potrà rispondere in tempo. Abbiamo Grizzly in arrivo da Spirit of Fire. Resistete laggiù. Ah, Carry Grizzly. Il progetto preferito di Forge. All'attacco! Eccoci! E in viaggio! Sto andando! Fuoco, sì signore! Fuoco, positivo! Sando! Musica Persaglio attaccato! Musica base qui forge siamo sotto attacco tutte le unità mi muovo attacco il bersaglio forge è a terra tutte le unità attaccato pronto caro armato in movimento tutte le unità mi muovo attivo è in moto mi sono scaldato tutte le unità vado eccoci pulizione signore forge torna in azione al mio segnale e muovo e muovo e muovo ho perso degli uomini dove sono quei rinforzi attacco proiettili in volo attacco attacco attivo è in moto dove si va attacco 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 gli ordini gli ordini dicono di muoversi grizzly beh almeno so come ripararli ho fatto qualche miglioramento i miei potenziamenti speciali tenete le armi pronte copritemi mi sto ritirando con enders tutte le unità tutte le unità subito certo in arrivo sto andando muovetevi sono saltati i comandi siamo tagliati fuori portatemi al pannello di controllo del ponte est credo di poterlo attivare occhio ora sei ce ne stiamo andando bombardiamoli ci dev'essere un errore siamo qui per combattere tenete le armi pronte mi muovo mi sto muovendo un altro giorno nell'esercito in movimento in movimento ordini vado in viaggio quei grunt trasportano esplosivi state allerta facciamolo non sarà divertente facciamoli a pezzi tenete le armi pronte lascia fare ne ci muoviamo per eliminare l'obiettivo mettiamoci al lavoro ho il nemico nel mirino ci muoviamo tutte le unità ricevuto state aperto tutte le unità in movimento mostrami l'obiettivo posso partire datemi un minuto e questo ponte torna operativo hai sentito la signora diamole un po' di privacy mi muovo eccoci occhio a quelle porte sembra che abbiamo visite ok vado li colpiscono signori sarà un piacere in attesa signore signori ci muoviamo dove si va sono pronto dimmi un minuto dacci un ordine ricordate il vostro addestramento rogge ad andare subito ucciso 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 obiettivo in vista fatto il ponte è operativo obiettivo in vista tutte le unità subito tutto muovendo facciamolo un altro frutto ucciso ricevuto interno tutte le unità riduciamolo sono un piacere tutto muovendo rimuovendo mi muovo subito mi muovo mi muovo in arrivo cacciatori ce ne sono troppi dobbiamo affrettarci verso l'uscita guardiamoli obiettivo in vista non hai niente di meglio da offrire oltre questo caso ricopriamo noi sergette porti enders fuori di qui mi muovo andando alla zona d'atterraggio certo ordini ricevuto attendo ordini in attesa vado cosa ti serve in movimento ordini rifornito in azione qui Forge ce l'abbiamo fatta pronti per l'estrazione qui nevita qui è una minaccia bene professoressa voglio essere informato sui suoi ritrovamenti quando sarà a bordo dove sono quei rinforzi? a e a a a a a